Amiche e amici del Futsal, buonasera da Silvio Luciani, siamo collegati dal pallaricopiano di Pescara per questa importantissima partita della Serie A femminile di Futsal si sfidano la prima e la seconda in classifica Kickoff e Tiki Taka Futsal, Franca Villa, reduci da un inizio di stagione molto incoraggiante il fischio, il primo giro del pallone Sul cronometro intercetta Ortega, attenzione a ripartenza 2 contro 1 del Tiki Taka Ortega Carturan paro, non arriva, Bertè sul controllo Taka muove questo pallone in zona offensiva, la suolata di Butimala, parola di Carturan poi Bertè, ancora Carturan, ancora possesso di Tiki Taka, recupera però Getulio che è libera Trovare De Siena, allora Ghilardi può calciare col sinistro che si infila all'angolo, in vantaggio alla Kickoff con Greta Ghilardi, Mancino da fuori Ortega però lo recupera da mettere dall'altra parte De Sosa anticipa ed è fondamentale il recupero di parte dall'altra parte per Borges, il controllo, resiste alla carica di Ortega poi De Sosa, super parata di Duda le finte di Bovo, cerca Ghilardi in difficoltà sulla pressione Bertè e Butimala con la punta, respinge Carturan della giocatrice in più il Tiki Taka, Pellegri esce bene però da questo ripallo con Bertè Borges controlla, il palo di Borges, Bovo insiste, Duda respinge e arriva Borges a realizzare lo 0-2 per la Kickoff azione insistita da parte della squadra ospite che è riuscita a trovare un varco e alla fine ha realizzato con quella che è nettamente la migliore in campo Bruna Borges, 0-2 a 4.45 nel termine della prima frazione Bertè, palla per Ortega, passa, ancora Bertè, occasione per il Tiki Taka un intervento salva risultato da parte di Ghilardi fa passare il pallone proprio per Guidotti si difende l'attacco di Pellegri, Guidotti, serve il solde via 2-1, ha segnato Anna Soldevia il Tiki Taka rientra nel match a 14.38 dal termine del secondo tempo con il gol di Anna Soldevia recupera adesso Bertè Bertè si vola verso la porta, calcia Carturan gira Chetulio, prova la palla dentro per Pellegri che anticipa Duda finta di Ortega che va dentro Guidotti, un secondo pallone, la palla rimane lì Ortega ancora Carturan, chiude lo specchio serve Ghilardi, ha spazio per il sinistro Paraduda e poi un intervento magnifico da parte di De Siena Ortega, movimento di De Siena servita nello spazio De Siena uno contro uno con Borges, va sul destro De Siena poi cerca Soldevia la deviazione di sinistro 5 minuti per evitare la prima sconfitta in campionato per il Tiki Taka, adesso prova Ortega un miracolo, un miracolo di Carturan ancora lo scambio tra le due palla per Bertè, c'entra, calcia Carturan suona la sirena, vince la kickoff che conserva la vetta della grassifica quinto successo consecutivo per la squadra di San Donato Milanese e inflisce al Tiki Taka Fuzz al Francavilla la prima sconfitta in campionato di questa stagione